Stiamo soffrendo un po' più del dovuto, però seconda vittoria fondamentale contro la Tunisia stamattina. Sì, sono state delle partite molto soffette, abbiamo un po' pagato il fatto di dover dimostrare di essere la squadra favorita, la squadra di casa, e quindi ci stiamo mettendo un po' ad abituarci a questa tensione, però piano piano facciamo sempre meglio. Qual è secondo voi l'aspetto, la debolezza che vi sta mettendo in difficoltà in queste prime tre partite, che vi ha messo in difficoltà? Prima di tutto, come ha detto la mia compagna, sentiamo molta tensione addosso, quando è stato in casa, come con il pannello, la pressione è alta. Però, a parte questo, diciamo che sono anche molti malori fisici, come l'Andy con la casa, o comunque altri problemi a livello fisico. Però, tutto sommato, stiamo cercando di fare del nostro well, ci impegneremo per portare alto il nome dell'Italia.